salve buona domenica a tutti in questo vangelo di matteo gesù racconta una parabola coinvolgendo i scribi e i sacerdoti mettendoli a riflettere ma ovviamente metti a riflettere ciascuno di noi anche oggi racconta di questo padre che ha due figli che invita ad andare a lavorare nella sua vigna il primo gli risponde sì padre io vado ma poi in realtà voltato all'angolo non va nella vigna a lavorare il secondo gli dice immediatamente guarda io non ho voglia ma poi si pente qualcosa cambia nel suo cuore va oltre i suoi limiti la coscienza gli parla e decide di cambiare atteggiamento va a lavorare nella vigna e supera i suoi limiti il suo peccato ha un ravvedimento rispetto al primo quante volte anche noi viviamo come il primo di questi figli ovvero una fede di facciata amiamo più l'esteriorità che che la sostanza allora ha voglia a fare genuflessione in chiesa sgranare rosare partecipare alla santa messa ma se dentro il cuore non cambia rimane arido allora diventiamo come siamo come il primo figlio ecco perché gesù in questo in questa parabola precisa che le prostitute passeranno davanti per il regno dei cieli perché perché si sono pentite ovvero come il secondo figlio che prima dice no ma poi accoglie nonostante i suoi limiti i suoi peccati va oltre e decide di di dare una svolta alla sua vita allora gesù però bisogna comprendere anche innanzitutto cosa vuol dire fare la volontà di dio fare la volontà di dio vuol dire accettare accogliere fare l'esperienza dell'amore gratuito gratuito di dio innanzitutto fare la volontà di dio non vuol dire mettersi in un atteggiamento di fare chissà quali grandi sforzi e opere dobbiamo ricordarci che al contrario dobbiamo metterci noi in una condizione affinché l'opera di dio si manifesti nella nostra vita perché possiamo diventare testimonianza viva reale concreta per chi ci osserva per chi ci cammina a fianco non dobbiamo dimenticare che la chiesa ma è fatta di peccatori perdonati perché pentiti non dobbiamo dimenticare neanche che gesù è venuto in questo mondo per salvare ciò che era perduto per i peccatori come me come te come le prostitute e pubblicani che gesù in questo vangelo dice che ci passeranno avanti nel regno di dio perché hanno riconosciuto la loro condizione di peccato e hanno deciso di cambiare vita Dio preferisce chi è autentico anche se non è di esempio piuttosto e rispetto a coloro che non ammettono i propri limiti ma che al contrario si nascondono in una vita ipocrita senza senza cambiare nel cuore senza guardarsi nel cuore e senza muovere un dito un bacio dalla vostra Monica ciao 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 ciao